Si sta prestando ad arrivare in aula un rendiconto che presenta comunque degli aspetti positivi, facciamo riferimento alla riduzione del disavanzo dell'amministrazione di circa 140 milioni di euro, un fatto molto positivo, sul quale pesa ovviamente una relazione dei revisori dei conti che hanno espresso parere non favorevole. Questo sarà atto di discussione anche all'interno del Consiglio, l'amministrazione dovrà recepire le prescrizioni che il Collegio dei Revisori ha stilato nel redigere la relazione e quindi durante la seduta del Consiglio verificheremo l'amministrazione, gli uffici della ragioneria, cosa produrranno e il dibattito comunque ci porterà, credo sicuramente, all'approvazione del rendiconto. I revisori hanno dichiarato un parere non favorevole, ma nello stesso atto hanno indicato delle prescrizioni affinché il rendiconto che noi approveremo oggi, perché lo approveremo, possa trovare una maggiore solidità amministrativa attraverso una serie di atti che loro ci chiedono. Io penso che siamo già al lavoro per questo, affinché quelle che sono le indicazioni dei Revisori dei Conti vengano recepiti nell'atto che approviamo stamattina e quindi seguendo una loro indicazione. A me sembra abbastanza chiaro quello che i Revisori dei Conti hanno fatto. Hanno espresso con il loro parere quelle che sono le criticità che in questo momento, da un punto di vista finanziario, vive l'ente e hanno anche indicato quelli che sono i correttivi. Chi sta drammatizzando questa situazione ha fini puramente speculativi, è legittimo, ma noi per senso del dovere raccoglieremo quelle che sono le indicazioni dei Revisori e approveremo un atto completo. La maggioranza credo sia compatta, unita. Ieri abbiamo avuto una lunga riunione, inizia la maratona di questa giornata che finirà sicuramente con l'approvazione di questo rendiconto, che non è nemmeno, voglio dire, un atto politico e un mero atto di ragioneria. Sta a ratificare il bilancio che abbiamo già approvato precedentemente. Il bilancio che ha approvato la maggioranza sarebbe, come dire, non è possibile che chi ha approvato il bilancio poi non approvi il rendiconto, che è solamente un conticino di ragioneria. I Revisori hanno un po' forzato la mano, il rendiconto non ha bisogno di un parere, ha bisogno semplicemente di una relazione, il parere si esprime sul bilancio. D'altronde poi i Revisori non hanno bocciato, ritenuto negativi, il rendiconto. Hanno espresso un parere non favorevole dandoci delle prescrizioni. Le prescrizioni saranno tutte quante esaustive in aula, dettate una per una dall'assessore Panini. Credo che ci sarà una grossa chiarezza e un grosso voto di maggioranza.